Caddi dall'alto. Per guadagnarmi da vivere camminavo sui trampoli. Sul pezzo e sulle spalle portavo la pubblicità dei ristoranti. Un giorno, mentre mi esibivo sulla spiaggia, caddi dall'alto dei trampoli ed ebbi la commozione cerebrale. Fu la mia illuminazione. In ospedale, mentre riacquistavo lentamente conoscenza, mi accorsi di sapere tutto ciò che mi stava intorno, senza essere ancora in grado di vederlo, e mi ressi conto che la caduta mi aveva trasferito in una dimensione superiore. Quando tornai dopo tanto tempo nel mio paese, non mi riconobbi più nella mucca, negli ulivi, nell'asino, nelle pareti di casa mia. Così, dopo la caduta, non mi riconobbi più nell'uomo dei trampoli, perché avevo un senso in più, quello del futuro. Così, dopo la caduta, non mi riconobbi più nell'uomo dei trampoli.